let's go baby e benvenuti al the power night talk show oggi è 3 marzo giusto sì ormai 4 sono qui in compagnia di un ospite speciale se mette a fuoco che così la potete vedere la mia ragazza braca ebbene stiamo per partire con il the power night talk show e perché questo show principalmente per raccontarvi qualcosa mia della mia ragazza e in più anche per dirvi che domani per chi è di milano ci si vede a milano al mobastore in via giovanni pascoli 70 slash 2 non mi chiedete perché c'è lo slash quindi se siete di milano fate un salto domani sera dopo cena perché ci becchiamo l'astro tutta la notte a bere fare due chiacchiere a giocare eccetera eccetera e niente vuoi dire qualcosa di prima di salutare niente solo che se soffrite di insonnia come noi venite a fare due chiacchiere e ricordate di portare qualcosa da bere gli stuzzini let's go baby